Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, oggi siamo qui per parlarvi dei giochi gratuiti in arrivo per tutti gli abbonati al PlayStation Plus di novembre. Questo mese avremo ben tre titoli, due per PS4 ed uno per PS5. Ma partiamo subito, dal 3 novembre infatti arriverà la Terra di Mezzo, l'Ombra della Guerra, Action RPG, sequel dell'apprezzatissimo Ombra di Mordor. L'Ombra della Guerra prosegue la narrazione da dove si era fermato il primo capitolo, con Talion, il ramingo non morto, deciso a forgiare un nuovo anello del potere libero dalla malvagità. Il secondo titolo invece è il tanto acclamato platform d'avventura a tema fantasy Hollow Knight, edizione cuore di vuoto, che include il gioco completo più tutti e quattro i DLC, per vivere l'esperienza completa di Hollow Knight, gioco incentrato su un misterioso cavaliere che viaggia attraverso l'ormai abbandonato regno di Nido Sacro. Infine, Bugs Next, gioco d'avventura ispirato ad Ape Escape, già visto più volte durante gli State of Play. Non si tratta di un gioco AAA, ma è sicuramente un buon inizio per quanto riguarda i giochi gratis per PlayStation 5. In Bugs Next controlleremo un giornalista che, incuriosito da un esploratore, partirà verso un'isola popolata da strane creature, per metà insetti e per metà snack. Cosa ne pensate di questi giochi gratuiti per il mese di novembre? Siete soddisfatti oppure no? Fatecelo sapere con un commento, e se il video vi è piaciuto vi invitiamo a lasciare un like di supporto, a condividere il video e a iscrivervi. Ciao a tutti!